rieccoci tornati in diretta qui a hotpot secret con il nostro pat villa juan su rete 55 canale 88 del digitale terrestre preparato è molto preparato bravo no c'era scritto qua ha imparato a leggere imparato a leggere no che lo cancello allora patto quale sono le cose più belle che ti ti ha regalato in questi anni la stand up comedy ma non una moglie no 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 pensavo pensavo sa che dice le donne farle ridere le conquisterai no niente fatta da uomo sposato ti dico che è una fortuna ma sai che me lo dicono tutti ciao amore è l'unico consiglio che io seguo quando uno sposa mi dice non sposarti non so perché mi fido ma come quelli con i figli non seguire mai i consigli degli altri ma io quello lo seguo non so perché c'ho sta roba che mi fido ti fidi scusa ti interrompo perché voglio salutare anche la moglie di paolo ciao amore ecco perché io sta giusto ma quindi siete parenti sì però non funziona noi no e se lui si fa tua moglie siete parenti ma questo non lo so siete pari siamo pari pari non lo so neanche questo patto c'è mai stato magari durante i tuoi spettacoli qualche volta magari qualche battuta che non è piaciuta e il pubblico ha reagito male no reagire male no fortunatamente no diciamo che quando hanno mai dato gli schiaffi no per adesso no non sono sempre scappato via prima no reagire male no ogni tanto a qualche comico capita perché magari qualcuno dice ma no queste cose non si dicono che poi quantomeno fagli finire il pezzo di glielo dopo non dimmelo mentre sto facendo una serata vabbè succede no però beh quando fai gli open mic generalmente provi delle cose nuove tante volte magari non arriva proprio la risata è una battuta che dici questa qui con questa ci chiudo questa stasera ci chiudo e parte parte l'applauso silenzio totale arrivederci grazie vai a casa e piangi malissimo applauso in quel momento applauso quando te ne vai aspettavano solo male e non c'era la differita magari esatto in quei casi come riprendi in mano il pubblico vai avanti vai avanti anche quello che guarda vai avanti o sennò lo dici fa molto ridere quando un comico dice che mi sta battuta fa cagare la tolgo perché se ridono sempre quindi è un modo per recuperare per fargli capire sto provando di prima perché ti metti in difficoltà questa cosa piace far ridere quindi lo o lo ammetti o tiri dritto e quanti quanti amici ti porti a uno spettacolo in modo che hai il sostegno ma sai che per me è difficile perché facendoli quasi tutti avvare a milano essendo di varese o vado con francesca di solito che la ragazza l'altra ragazza che va stand up prendiamo giù in due quindi siamo io sono il suo pubblico lei è il mio partirei a ridere esatto fortunatamente noi le serate a milano vanno benissimo anche qui a varese quelle che facciamo la gente c'è quindi 99 su 100 c'è sempre un bel pubblico pronto se dovessi aver bisogno di spettatori a pagamento possiamo farti un buon prezzo tu esatto a soli 999 raggiungo pagamento che mi sta siamo rateizzare si può rateizzare allora allora non c'è problema ha solo 99 9 al mese sempre questo prezzo per tutto è un prezzo che ho stabilito io il buon giuseppe è un prezzo a fare prezzo unico per tutto qualunque cosa se io ti faccio pagare una cosa 99 9 tu dici l'ho pagata meno di 100 è vero e tu sei convinto di averlo pagato meno di 100 euro abbiamo un genio abbiamo l'einstein dell'economia e non lo sapevamo ancora fatti i soldi ma io no ribadisco adesso ho capito perché mi hanno messo qua ecco pat ma nella stand up funziona come gli artisti come i cantanti vi lanciano i reggiseni qualche volta no 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 uova pomodori quello sì quello sì li prendi al volo senza farli rompere sì perché si guadagna poco quindi qualcosa da mangiare almeno lo porti a casa no no per adesso no non sono ancora quel livello però magari un giorno e invece il complimento più bello che ti hanno mai fatto se sei proprio simpatico presento una mia amica simpatica sai quelle cose una cosa no no in realtà un complimento che ho apprezzato ultimamente visto che era successo che in un locale non avevano gradito la mia battuta sul catcalling che non era in realtà pro catcalling ma era contro ma non l'hanno capita mi hanno un po bannato da quel locale lì in provincia non dico dov'è e quindi ho detto cavolo devo stare un po tendo magari quello che dico perché magari le donne mai possono offendersi e tempo fa ha fatto un open mic a milano e una ragazza mi ha detto guarda io sono femminista convinta ma le tue battute di stasera sulle donne gli hai dette talmente bene che mi sono piaciute mi ha fatto ridere tantissimo quindi ho recuperato il fatto ok l'hai portata a letto no no mi ha detto non sono così femminista ok va bene però potresti essere generosa esatto potresti essere generosa ma invece sono femminista va bene quindi aver recuperato questa cosa di dubbio di dire magari se certe battute sulle relazioni sulle donne possono dare fastidio questa cosa mi ha un po le sollevate continuo a farla che me ne frega a me esatto mi ha fatto molto piacere comunque esistono degli argomenti non dico vietato però magari meglio non toccare durante una serata stand up qualcosa che preferisci evitare io personalmente sì tu o comunque in generale ma in generale relativamente no nel senso si può dire un po di tutto certo se esageri esageri molto la reazione del pubblico magari un pochino più spenta perché cosa stai dicendo perché comunque essendo una cosa che c'è da pochi anni questo movimento che si è creato tanti vanno a vedere la stand up ma non hanno ancora capito quali sono gli argomenti no quince ma maria una parte di pubblico nuova e sente delle cose sempre perché siamo capitati per esempio per esempio battute sull'attualità sui generi sugli uomini e sulle donne sui bianchi sui neri trattando tutti gli argomenti può esagerare su tutto chiaramente facendo bene il tuo mestiere quindi non facendo arrabbiare la gente ma facendolo divertire però sì bene o male ti puoi bar camminare su tutto io non esagero mai per dire su su battute su magari solo velatamente omofobe non ci sono battute omofobe però quel tipo di argomento lì piuttosto magari sì esatto più razzismo come dice lui la pedofilia che non sono mai battute pro gli argomenti che tratti sono sempre contro quindi stai prendendo in giro in realtà se non sei a favore ma se stai prendendo in giro gli omofobi razzisti però lo fai in una maniera estremamente diretta che una persona dice ok però la terminologia mi sembra un pochino troppo forte non esagerare certe cose non si possono dire no si possono dire ti devi solo abituare modo per dire che lo stile è quello lì però sì no generalmente si scherza su tutto e la battuta più brutta invece che hai fatto che ti sei pentito magari di aver fatto oddio non me la ricordo la battuta più brutta che ho fatto l'hai cancellata proprio dalla memoria proprio ne ho fatte tante ne ho fatte da cancellare no una volta all'inizio inizio 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 ho fatto una serata a milano e facevo ancora delle cose non dico cabarettistiche però parlavo di relazioni ero un po una sorta di di pucci per dire ecco quindi quello un po sai il l'ospedale la schiena mi fa ma la schiena le relazioni ma la mia moglie non mia moglie ma la mia ex era un po non dico sporco di cabaret perché il cabaret bellissimo però avevo ancora quello stile lì no e in quel locale che era appartamente ristenato perché la conoscevano già bene sentivo il pubblico che era un pochino strideva un attimo boh magari lo stile non gli piace a un certo punto non so non so perché cosa ho detto detto comunque vabbè io quasi finito perché ho fatto sette minuti e mezzo e uno dal palco era ora vivo la sincerità credo di aver proprio finito detto detto sommesso però l'ho sentito perché fortunatamente gli altri non hanno risolto no no perché non l'ha sentito non ti sei sentito una merda però in effetti lo stile era perché era una delle primissime cose che facevo no era cosa non si era pure grosso quindi c'era poco da aspettare una delle prime cose che chiaramente ti capitano quindi avevi dovevo ancora capire lo stile e poi ho detto ok ci cambio un po ricamo un pochino sopra poi ho preso piede non ho più successo di dire hai preso piede sì 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 assolutamente e allora ci fai sentire qualcosa i nostri amici a casa certo ma certo ma certo e io mi sono preparato visto che siamo in televisione ho fatto delle mie battute però quelle un po meno parolacce per essere no 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 noi vogliamo le parolacce cioè devono essere puoi essere scurri mai visto adesso che quattro animali che siamo in tv va bene sì 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 no perché avevo preparato quelle sei no 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 parola servono un cazzo bene io mi chiamo patrizio villaguan come avete capito il mio cognome non è italiano io origini spagnole e venete che faccia ridere così lo so si dice tanti con tante cose sui veneti no infatti una delle mie particolarità è avendo queste due origini particolari e che bevo bestemmio mi faccio rincorrere dai tori e trasportavo schiavi in sud america questo più o meno è quello che facevo e c'è si usano molti stereotipi come dicevamo prima nella stand up qual è lo stereotipo dei veneti oltre al bestemmiare che bevono lo dicono sempre tutti in meno di quattro secondi netti posso confermarlo perché sono per metà veneti allora allora hai ragione comunque è vero e in effetti si ce l'ho addosso questo stereotipo corre un po nella mia famiglia specie un mio cugino con la quale tutte le volte che esco succede qualcosa di assurdo l'altra volta siamo usciti abbiamo bevuto talmente tanto che siamo finiti in ambulanza pensate meno male che nessuno si è accorto quando l'abbiamo rubata tra nel vecchio che c'era dietro ma tanto è durato poco un paio di shot di room se ne è andato dopo le sue gambe stava benissimo abbiamo salvato una vita e oltre avere questa particolarità di questa mia doppia origine o un'altra particolarità come dicevo prima da un po di tempo questa parte 40 anni quindi grazie cambiano molte cose a 40 anni il sesso cambia 40 anni ero tremendamente bravo quando ero ragazzo a fare sesso e ne sono stato anche dipendente pensate ho dovuto andare in terapia per guarire questa mia dipendenza dal sesso e dalle prostitute lo ammetto lo ammetto sì sì ci si confessa un po nella stand up sono in terapia per curarmi da questa mia dipendenza le prostitute non è andata benissimo perché quando la psicologa mi cassa 100 euro tirato fuori il cazzo colpa mia colpa mia abitudine 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 così ho detto vado un psicologo maschio magari problemi fuorviato ma è nata anche peggio per quando gli 800 euro il cazzo e torno fuori lui sai che c'è faccio faccio da solo faccio da solo e ripenso queste cose un po le mie le mie relazioni le mie ex mi sono accorto che forse l'errore stato mio perché sapendo che le donne sono meglio degli uomini io mi sono sempre fidato letteralmente e li ascoltate letteralmente e forse ho lì ho sbagliato perché ho esagerato a prendere troppo le donne alla lettera non dovete farlo una volta stavo andando una ragazza per esempio a fare sesso io le ho mandato un messaggio scritto arriverò per le 21 lei mi ha detto se vuoi vieni anche prima mi sono fatto una seguimenti colpa mia colpa mia colpa mia interpreti male interpreti male però è così in effetti così ero tremendamente convinto della mia della mia bravura letto tanto da chiederlo sai quella domanda stupida ti è piaciuto una volta detto ma senti ma fare sesso con me come come secondo me secondo te fare sesso con me e lei mi ha risposto guarda fare sesso con te è come un film nove settimane e mezzo terminator no fuori in 60 secondi e ogni tanto è mission impossible prove quello quello è quello è così prove ci sono un sacco di stereotipi che di cui puoi parlare per esempio c'è uno stereotipo di cui parlo ultimamente dei giovani che fanno fatica a trovare lavoro ci sono queste queste cose però una cosa che hanno i giovani che non avevamo attraverso la tecnologia sono riusciti a crearsi dei lavori nuovi tipo i content creator su internet sono i ragazzi non siamo noi no anche se alcuni non li comprendo avendo 40 anni faccio fatica per esempio questa cosa di holly fans non la capisco non so se magari vuoi tipo vendere le proprie foto su per soldi vendere proprio video per soldi vendere proprio corpo per soldi non lo comprendo ne parlavo l'altro giorno con la mia escort e anche lei e anche lei non aveva parole anche perché non si parla con la bocca fine però non è sì no per una cosa era una cosa però nel senso forse perché sono cresciuto in un quartiere un po strano sa la provincia come no sei un po cinico diventi cinico cresci male sono cresciuto in un pessimo quartiere mia nonna me lo diceva sempre patrizio stai attento perché qui fuori è pieno di spacciatori poi diceva perché non voleva che comprassi della concorrenza però nonna nonna era così non era così lato mi spiace entristirvi un attimo però mia nonna da un po di anni non c'è più se n'è andata per colpa dell'alzheimer e io ero disperato ho fatto un sacco di mesi a dire dannata malattia te la farò pagare ti ricambierò con la stessa moneta e così mi sono dimenticato di andare al funerale ma nonna so che mi guarda lassù probabilmente rollandosi una canna grazie questo è più o meno le battute è più o meno lo stile che fornire comunque sempre sul soft si vedi che non esagire mai si è ben dici la parolaccia dici l'espressione un po volgare però l'argomento è sempre leggero comunque sempre legge c'è non non ce l'ha mai con i quali che spendono i soldi soli fa vero no no perché giuseppe quanto spende al mese su ogni fa vai 30 euro perché io di solito spendo spendo i proventi degli abbonamenti a hot pot però ultimamente scarseggiano e quindi mi devo accontentare una domanda 30 euro diviso quante ragazze però e tutte quelle che stanno per 30 euro per tutti se vai sopra gli 85 quanti gli abbonamenti a 50 genitori che mandiamo il pane è l'unico limite ovvero 85 qualcuna senza dentiera si fa mandare anche un po' di soldi dei genitori dove non può arrivare lui chiaramente arriva con i soldi dei genitori allora io direi che torniamo tra poco con l'intervista on fire di hot pot secret perfetto